È iniziata una maratona molto dura perché, contrariamente a quello che è stato detto anche negli ultimi tempi, il Comune di Napoli ha avuto ulteriori 15 milioni di taglio. E il primo bilancio armonizzato, quindi altri tagli ai trasferimenti. Per complessivo un miliardo di euro di tagli e non abbiamo avuto nessun allentamento del piano di riequilibrio. Quindi in queste ore stiamo chiudendo un bilancio molto difficile che garantirà quelli che sono i servizi strategici della città. Ma per poter migliorare ci affidiamo alle altre leve che abbiamo messo in campo. Fondi europei, patto per Napoli, bandi per le periferie. Poi ci sarà una novità importante con un'accelerazione sul patrimonio, con delle novità importanti che illustrano il Consiglio Comunale e con la partenza poi della Napoli riscossione che sarà determinante perché con la nuova normativa di bilancio che non è più di competenza ma di cassa, la sofferenza di questa città è la cassa a cui si aggiunge, se posso aggiungere, una cosa molto grave su cui attendiamo in queste ore una risposta dovuta dal governo che è addirittura un pignoramento di quasi 100 milioni di euro che da circa 4-5 mesi blocca praticamente la cassa del Comune di Napoli. Non so come abbiamo retto sinora e siccome è un debito quasi esclusivo dello Stato il fatto che nell'imminenza del bilancio il governo non abbia detto ancora una risposta conclusiva su questo ci lascia davvero molta amarezza. Per adesso mi fermo qui. Sul capitolo ANM. Il capitolo ANM approviamo credo domani in Consiglio Comunale, se viene approvata la nostra delibera che è una proposta al Consiglio significa che ANM avrà le linee di indirizzo strategico dell'amministrazione quindi significherà azienda tutta pubblica, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e dei diritti acquisiti e mettere in condizione l'azienda di fare il piano industriale per il miglioramento dei servizi e poi entro l'anno dobbiamo affrontare e risolvere i rapporti tra NM e CTP perché la mia idea, vediamo se la Regione ci accompagna in questo percorso è la grande azienda di trasporto pubblico metropolitana unica attraverso una fusione tra NM e CTP. Però qua c'è il ruolo della Regione sul trasporto e che mi auguro non faccia mancare il suo sostegno che è fondamentale perché come sapete il trasporto pubblico dipende molto economicamente e finanziariamente dal ruolo della Regione.